C'è un nuovo episodio di Secret Invasion Vi ricordo che questa qua è la mia reaction editata con tutti i miei momenti e l'episodio messo un altro in piccolino Mentre invece in descrizione trovate la reaction senza tagli completa con un minutaggio al quale sincronizzare l'episodio Per la scorsa reaction mi ero dimenticato di rifare questa professina però ho visto che molti di voi comunque si sono guardati anche la reaction completa Quindi immagino che vi ricordate come facevamo il tutto A parte ciò vi auguro una buona visione Sono Nick Fury Poco dopo E' riassuntilo di Captain Marvel Eccola questa è la moglie E poi c'è la piccola da qualche parte E ora però è da capire che cosa... Ecco Qua finiva Captain Marvel Che cosa è successo da qui? Però che ce lo raccontino in questo episodio 1997 Oh se è tutto un episodio flashback io me lo accollo volentieri eh Vorrei presentarti qualcuno Ah il ragazzo Lui è Gravik Eccolo qua Gravik I suoi genitori sono morti durante la guerra con i Kree Ah Riuscito a scappare dalle trincee del nemico Ha pilotato una nave in totale autonomia E' intelligente Oh fortissimo Sa come sopravvivere E' one man army Potrebbe darci una mano Lo sai che è molto pericoloso Non ho paura Cazzuto bimbo Ma quelli di voi Che coraggiosamente sono qui Sulla terra Lo hanno fatto Per una ragione chiara Per Nick Fury Per quel che Per quel che lui può offrire Quest'uomo Che ha la mia fiducia Un termine che non uso tanto spesso Mentre voi lavorate per tenere la mia casa al sicuro Carol Danvers e io Ve ne troveremo Una nuova Eh o almeno questa era la loro promessa Poi boh Chi vuole accettare quest'impegno? Chissà se ci buttano dentro Captain Marvel a questo punto in questa serie Forse si considerato che il prossimo film è The Marvels Grazie Soren Onorate la vostra promessa Io manterrò la mia Io onoro la mia E questo è il motivo per cui succede tutto Perché loro l'hanno mantenuta la parola Di fare cosa non sappiamo Aiutarlo in qualche modo Però lui non è riuscito a trovargli la casa È da capire perché lei ha uno sguardo strano Quindi voglio capire se lei ha Perché gliela prendono? Che succede? Questa è Sogna che lo prende mi sa No? Ah Ok ci sta Quindi Talos ha salvato Fury Maria Hill ragazzi Mi sa che Cioè o viene recuperato il corpo O viene arrivato da qualcuno Ma secondo me Ha fatto la sua storia Ma provando a ricordarmi se questa sigla Sia differente dalla precedente Nello scorso episodio Mi pare di sì Ma un po' Cioè ci sono delle cose in comune sicuro Tipo la casa bianca C'era Altra roba Lei è talos Poesce di Moskva-Varshal Qui c'è più chance di incontrare un'inplanetianina Eh è piaciuta questa cosa Sono andati Eh lui ora poi si sente in colpa per il discorso che Che fece Maria Hill Perché ha detto Se tu non sei pronto e tutto Qualcuno si farà male Che si è fatta male proprio lei Durante questi viaggi lunghi Io e mia madre Ci inventavamo dei giochi Per passare il tempo Dimmi qualcosa che non so Era uno dei suoi preferiti Proviamo a giocare anche noi Certo Dimmi qualcosa che non so A proposito della distruzione di Skrullos Ah figo come cosa Eravamo sopraffatti dai Krihan Il milione di noi che era rimasto Solo un milione quindi rimase Dimmi qualcosa che non so Sugli Skrull che sono fuggiti Sono qui Chi è qui Tutto il milione no Tutti noi Ah No 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 Scusa tu mi vuoi dire Che un milione di Skrull È in mezzo a noi proprio adesso Wow Ma che ti dice quella testa di rettilaccio È impazzita E tutti gli Skrull Che non erano nella colonia Dell'imperatore Droge L'imperatore Droge È un imperatore Krihan Mi hai mentito Ehi Ci stavano dando la caccia In tutto l'universo E che succede Quando chi ospita scompare Perché tu non c'eri Giusto E davvero non credevo Che saresti tornato Perché non si sono mai contattati E poi come seconda cosa Alla fine di Far From Home Io spero che grazie al tuo aiuto Io ristava sulla base a spaziare Con gli Skrull Possano convivere qui sulla terra Gli umani neanche ci riescono tra loro Ti dirò di più Non c'è neanche su questo treno Vai È la tua fermata No No Perché no Londra Questo è Rudy Ah Fury è morto più volte per finta Però Giuro c'ho i brividi Questa cosa Non la volevo proprio Non me la Non me l'aspettavo per niente Elisabeth Elisabeth Hill Tu eri lì Qualcuno ha atteso una trappola A lei No A me E l'ha fatto facendo male a lei Eh Tu sei Nick Fury Maria credeva in te Ti avrebbe seguito fino alle porte dell'inferno Eh lui lo sa Lui Mi riene da piangere Era una coppetta così carini Ma il suo sacrificio Non deve essere in vano Tutti dicono che noi siamo coinvolti con Mosca No lui Diciamo fesserie grazie È assolutamente impossibile che gli attacchi di Mosca siano di matrice americana Come si chiamava quello della falena dove Super Hero Lui stava in Super Hero Bellissimo Come facevi a sapere che Fury era lì? In effetti Eh Forse erano una mezza Volevo vedere quanto rimanesse di lui Una mezza roba anche per lei Cioè nel senso Lui così ha scoperto che lei li ha traditi forse Portami alla riunione del consiglio Voglio vedere le loro facce mentre Mosca brucia Consiglio di Skrull Quello da cui è stato cacciato Talos mi sa Se non mi vedi fra un'ora Sparagli in testa Mi piace Bello Membri del consiglio Ah il tizio Non ho avuto neanche un invito formale Signor segretario generale Ma cazzo ma questa è quella della Nato Signora primo ministro E lei è quella dell'Inghilterra Meglio comportarsi da umano che da cane Quindi ce l'hanno con lui E non si danno da fare per degradare e distruggere il proprio habitat Che lettura ingegna della storia umana Eh il pianeta Questa è la lingua Skrull Wow Che premessa E che succede se tornano gli Avengers Eeeh Questa è la capa la domanda Credete che non ci abbia pensato Abbiate fede in me E prometto Che la vostra lealtà verrà ripagata È necessario definire una catena di comando La democrazia funziona in tempo di pace Ma in guerra ci serve un solo comandante Che detenga il potere totale e indiscusso E questo nomino Gravik Alla carica di generale Skrull Tutti coloro in favore di Gravik Come nostro generale Si espongano Wow E manca lei Ho paura che ognuno di voi Abbia dimenticato la nostra storia Siamo diventati nomadi rifugiati Per l'esaltazione della guerra Ok Non supporterò questo complotto E di certo non mi esporrò Sa che la fanno fuori Vai in pace sorella Non ti faranno male Ah non la fanno fuori quindi Ah ci sta Che c'è spazio per tutti gli Skrull Nel mondo di Gravik Ah chiama Talos Gravik Il consiglio lo ha nominato generale Ha il controllo sul nostro popolo E il nostro futuro Organizza un incontro fra me e Gravik Luogo pubblico Ti ucciderà Talos Sì Ah ma lei era la tizia Forse tu non capisci Gravik è cambiato Che negli anni 90 Presentò a Fiori Ma se non manterrà il controllo Il piccolo Gravik Mi sa E chissà che gli ha detto Comunque nessuno tra di loro Si ruba l'identità Forse perché poi Nel momento in cui Ti devi trasformare In forma Skrull Però Una Skrull Non può assumere Le sembianze Di un altro Skrull Non l'hai portato Il raccolto non c'era Allora torna a cercare DNA Che cosa vogliono fare? Una bomba per trasformare Skrull 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 Ah questo è Rudy Il fatto Colonnello Rhodes È Italia Con rispetto Primo Ministro Ma non posso dare Per buona L'autenticità Di foto fornite Dalla Russia Se la Slovacchia Fa un altro versetto Metto l'armatura E la bombardo a tappeto E qui c'è lei Colonnello Non è un capo di stato E infatti Questa è la grande domanda Il presidente Rizzo Finché non ci presenterete Un reale briciolo Di prova che corrobori Talie ansie Ok La sensibilità Sarà l'unica cosa Che offriremo Presuntuosa Come risposta Ma Quasi comprensibile Punt'è Lui può fidarsi Di tutte quelle persone Boh Preoccupate di finire I tuoi giorni In una comunità Per pensionati In Siberia Simpatica Carina Ti ho fatto ingannare Dell'ambiente rilassato Deposito 2000 morti finora E triplicheranno Una volta ripulite Le macerie Quindi non solo Hai apparecchiato Per la terza guerra mondiale Io non l'ho mai capita Se uno prova Di impedire la cosa Ma non ci riesce Che è colpa sua Almeno ci ha provato No? No Attori non statali Ha operazioni Di entità globale Direi Idra? No? Sì Se con idra Intendi un mucchio Ritizi verdi Che si mutano Nel tuo paparino Sì Lo sapevi già? Tu sai di loro Da quanto tempo Ah ecco infatti Il pentagono temeva Che potessero infiltrarsi Ai piani alti Per poi invaderci Dall'interno Quell'invasione È reale È compiuta Dovremmo chiamare I nostri amici No 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 Non facciamo stupidaggini Li mettiamo a combattere Contro gli scroll E vedrai che un minuto dopo Ce li ritroviamo duplicati E a fare i terroristi Cazzo è vera questa cosa Questa è la mia guerra Ecco perché non servono Non possono chiamare Gli Avengers No non posso Non esiste Non posso Il nostro aspetto Per consegnarlo a uomini Mediocri simili a noi Il senso di questo potere È di essere incorruttibili È di essere inesorabili Personale Ancestrale persino E di potergli dire Senza alcuna riserva Sei licenziato Per questo Lo stanno licenziando In questo momento Nick Wow Ma siamo sicuri Che questo sia Rudy Rudy Non dirmi che hai davvero L'impressione Che solo perché Mi spogli dei miei titoli Io rinnegherò Il mio DNA Attento Perché ha detto Sta cosa del DNA Non è che si ricollega Alla questione Della dottoressa Dove è il vostro rifugio Parla È il Non sai che si diventa ciechi Se agiti troppo il randello È lo scroll arrestato Vero? Lei che ci fa qui? Prendo il tuo posto Da Cognesco Dai a Pono Perché è il loro cavo? Non gli mettono A chi è che rispondono? Oh quasi dimenticavo Dov'è situata la via di fuga In questo buco? Perché vuole saperlo? Ho un istinto Wow Con il sangue pure Signori della Disney E questa è la nostra conferma Bella tattica Per capire Se avevano uno scroll Oh Brut Che ci fai qui? Vuole copiare Il DNA Per un volto E gli Avengers Il nostro uomo Ha localizzato a Brogan Chi è Brogan? Stai perdendo tempo Ah forse è lui Non ti dirò niente Chissà cos'è questo coso È l'Extremis? No Sta costruendo una macchina Che tipo di macchina? Eh Per duplicare gli Avengers Credo per renderci forti Ah Chi guida i vostri scienziati? Una coppia sposata Come si chiama? Quindi Dalton era la moglie E poi c'è Non posso ti prego Gravit mi ucciderà Dalton Ok gliel'ha detto Il nome è Dalton Mamma mia Ma questa serie C'ha una capacità Di fare le cose All'improvviso Veramente eccezionale Senti Io vado a controllare Sul retro Siamo sicuri Che vai a controllare il retro? No 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 Tu stai qui Se escono con Brogan Mamma che figata Capone ragazzi Fa molto Dostoyevsky Tranquilli Ce l'abbiamo Andiamo Non si preoccupano di Che cosa hai detto? Ho molti dubbi Poche certezze Però mi piace Questa situazione Questo limbo Quasi manca poco Eh Lo fanno fuori Semplicemente Non lo potevano Lasciare lì Perché Lo facevano fuori lì Poi lui Da cadaver Diventava uno Skrull Comunque il ragazzo Dietro Secondo me Si all'era Con Gaia Dove andiamo Signor Fury Cosa c'è qua? Un quince Ah no Ok No Non mi dite Che è la moglie Di Fury No È la moglie O sennò è la tizia Che l'aveva No Quella aveva chiamato Talos Quindi Non c'è qualcosa Che dimentichi È la moglie Fury ovviamente Lo sa Che lei è una Skrull Però su me Veramente Tipo nessuno Sa di questa Di questo segreto Un bel episodio Che va a spiegare Un po' di più Le motivazioni Non mi ricordo Ancora il nome Vabbè Il cattivone Più che altro Cioè se riescono a fare Questa cosa Che sto per ipotizzare È follia Perché da quel che capiamo Loro vogliono Copiare il DNA Degli Avengers Là c'era appunto L'Extremis Che era il progetto Di Iron Man 3 C'era Mascella d'Ebano Che era quello Di Thanos C'era Groot Di base La cosa figa Di Secret Invasion È il rendersi conto Che alcuni Avengers Magari Sono degli Skrull E quindi Se proponessero questa cosa Senza mostrarci Il Gli Avengers Che abbiamo conosciuto Sono degli Skrull Perché Porterebbe a 10 miliardi Di problematiche Da dover Cioè da dover risolvere Insomma Però se ci mostrassero A un certo punto L'immagine degli Avengers Di alcuni Avengers Venire sporcata Facendo qualcosa Come Aveva Come Aveva potizzato La mita Fury Wow Cioè è per questo Che lui lo vuole chiamare Perché altrimenti Loro prenderebbero La loro forma E invece loro Non hanno più bisogno Di fare ciò Ma prendono direttamente Il DNA Degli Avengers È Il vero piano Degli Skrull Potrebbe essere Hype Hype Sono molto Molto gasato Fatemi sapere cosa ne pensate Ci vediamo con l'analisi Ma soprattutto Conocemo sempre Tra le stelle Skrull Puks Per le stelle Conocemo suppose Puks のは